3, 2, 1, per il mio porto! Sindaco, ritorno alla piscina naturale dopo due anni, che emozione? Una grande emozione, finalmente dopo due anni torniamo a godere delle bellezze del nostro territorio. C'è un sacco di ragazze e di ragazzi che sono venuti qui quest'oggi e siamo veramente felici. Ringrazio ovviamente tutti i volontari, tutte le forze dell'ordine e tutti i collaboratori che ci permettono di fare questa manifestazione, che ricordo ripeteremo il 20 di agosto. Dopo due anni torno alla piscina naturale a Porto Venere, ottemperando tutte le disposizioni vigenti in questo momento del Covid. Dove sta andando la situazione e come vi siete organizzati? Un appuntamento tradizionale che come detto ritorna dopo il Covid. E' una bellissima manifestazione che però presenta le sue problematiche, soprattutto oggi che c'è un po' di corrente. C'è un dispositivo nautico di sicurezza coordinato da noi ma rinforzato da tutte le forze di polizia, dalla Marina Militare, dalla Pubblica Assistenza, dal 118. C'è un dispositivo di salvamento molto ben organizzato. Siamo pronti per ogni problematica e noi ci auguriamo che sia una bellissima giornata natatoria.